Musica Benvenuti ragazzi Ben ritornati dal vostro Joker Siamo arrivati finalmente ragazzi Dopo un bel paio di tempo che me l'avete chiesto su Gears of War Con Ciccio Nella Anima E Stepney Ciao Ragazzi ci siamo portati un giovane Provetto qui con noi su Gears Se tu partite per riscaldarsi e per imparare Ma non ha capito che sto gioco ci servono mesi Per essere bravo ma non lo ha capito Non lo metto in dubbio ma c'è un problema Ma rimontarci ma sei già a livello 48 Io mica l'avevo visto Quindi ragazzi siamo arrivati su Gears of War Mi avete chiesto niente in tantissimi Mi raccomando lasciando un bel pollice su Arriviamo a 25.000 35.000 146.000 E vi porteremo altri episodi anche con Vegas Signori E toglieremo Stepney No ma io devo imparare Se non sapete che facciamo Io e Joker contro Stepney Anima Vegas Gesù Cristo Ma è meglio il granatiero o il terrone Il terrone Il terrone Metti il terrone Metti il terrone Quello è forte in culo Ma che terrone Sai come si spara a meno Con B Ma l'hai detto prima Bravo Stepney Sì no no con B con B No io già ti ho detto Poi quando vuoi fare la capriola Vuoi saltare Col tasto centrale Dell'Xbox Però quello proprio all'Xbox Non al pad Proprio quello all'Xbox Ma guarda che se tu Ah o sai Se vuoi che la capriola viene meglio Visto mi faccio io lo slide Tosta al muro Sì Eh Sì Quello se tu lo fai dentro casa te Lo fa anche il tuo giocatore Oh se lo fai start su Giu Giu Ragazzi io sono uno sniper Ce n'abbiamo due Ce n'abbiamo due Oh ma questi sono Quattro Che cazzo Quattro Sono tutti qua Quattro No ragazzi non son capace Che devo fare Ciccio da dietro Niente niente Hai fatto benissimo Non hai fatto benissimo Alla lanciare il fumaggio Hai fatto benissimo Ma baffanculo va Fai niente Fai niente Fai la badafaga Niente L'ho provato Joker Eh eh Stata a morire tutti Io si Marco Dì ma vai a morire Ma che gli devo sparare Le saponette Oh No Cosa ha fatto Non l'ho ripresa tutta Stai Non l'ho ripresa tutta Io si L'ho vista Aspetta Cosa un culo Era appena morto Ha fatto nè Sciotto col pompa Buono Buono Stai occhio eh Paschio è lì Anima Si è messo la terra Un guarda Quella grossa Si è messo il pompa Uno rosa E la mer mi traveste Ste vai Ste Vai Ste Oh mio Dio Che cazzo stai a dire Bravo Steppini Sta sopra me Steppini Sì Ma che cazzo Stai a dire Oh mio Dio Madonna mia Ma che sei stato Nella camera Deo spirito del tempo Mortale Ho fatto due kill Oh Dio è incredibile Che cazzo Prima che salta la corrente Poi che lagga Porco Oddio Steppini Ha battuto uno Steppini Ha battuto Quello che l'ho colpito io Vai Mbombe shot bitch Ho salvato le ghiappe Ste Oh eccolo Ste sta qua Ste sta qua Ste La sciccio muore Doppia mucciata Sì Headshot bitch Ne sono due Raga C'è uno Dove? Ma guarda che anima Ricoglioni No Quello che l'avete ucciso Vai Vai Ste Bravo Ste bravo stai più vicino stai più vicino bravo siiii non ti riuscire a te vicino stai io ci avrò 600 di ping come minimo sono secondo e il problema è quello mugia tantissimo o stai più in secondo regala dai ma veramente simone io non so guardate giuro io ci avrei tante teorie da dimma è meglio che mi sto finito per chi guardi ahhh esplodi merda ahhh la seconda guerra mondiale l'ha ucciso con la troica regala dai io sto spera questi vanno i kill con la troica forza due no la troia la troica è un'offesa la troica no è una triniere addio santo e basta con sto mitra un po' oh bravo madonna contro sto laggando dietro ci dietro ma a me me l'ha attaccata ma moria pezzo di merda mica me ne so accorto e mi ha attaccata la granata attento stai attento stai c'è davanti c'è davanti vai stai attacca a sinistra bravo bravo stai ecco lì dietro bravo vai stai vai stai vai stai bravo ma fa niente se va bene va bene va bene stai succalo ragazzo stai attento che qua tu per me fai delle fini di merda che neanche ti immagini io già mi immagino vado avanti moro come uno stronzo arrivate voi e va ammazzati tutti quello che è successo fino a mo dai anima ha preso il pad data sono a livello 3 se ne accorta adesso sta a fare uno spumante sta a livello 3 penso io che schifo non è spumante le merda che schifo dai 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 chiesto io ci c'è anima ah no io ci c'è anima sta finita solo dall'altra parte che devo fare o ammazzate ottio qui sono morti tutti e due è bello è bello così è mio è mio e sto incantiando e me sento il pencio il primo arco 2 l'ho visto la massa e sganazione e me è arrivato sganchierà la macchina dal fondo in fondo via furgone colami vai 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 stè vai stè un altro l'ho ucciso ficcio hai l'ha fatta a morire l'ho ucciso stepney bravo step via soltanto le motosega signori mamma mia la peste è dentro me porco tu è proprio la sento che c'è c'è gesù cristo sopra al cavallo che c'entra di uscire sopra al cavallo mamma mia vai una lanciamo la e una lanciamo la ecco ma si uccide una granate esplosive si ieri dai a vita che granate no io sono la famosa e lo so devi andare a raccogliere le armiste non so dove spuola e devi guardare con l'epito l'ho detto nooo non ci sono anima posso venire a incolarlo anch'io oh ecco stepney posso venire a quello anch'io camminavo lo sei quanti punti ci ho fatto addosso a quello stepney 99 se tu tieni premuto a ti corre il personaggio ragazzi vostra abbassardi stiamo tutti regala ma fai un abbattuto un abbattuto un'altra battuta ma io ci stavo a fare la strage comunque io mini la nostra squadra sembra bello vai 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 è partito anima raga no da dietro a me cazzo non l'ho visto è tutto in mano alle mamma mia in mano a mirko tutto in mano a mirko raga zitto che sto facendo ma fai te concentra ti stanno guardando migliori di spettatori ma dove stanno davanti a te non possiamo dire da dietro oh bella oh va bene va bene dietro e non mi sembra questo cristo dio e non ho bestemmiato solamente detto il nome del signore e faccio una memoria giovanni san paolo è vero 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 nel dubbio meno morti di gioco in gioco quella ce l'ha pelossa quella ce l'ha pelossa raga raccattatemi e ci ho provato anima non è morto un budino di locusta questi stanno gambe raga da stai scappa se c'è nato proprio scopera c'è nato solo pensare di quello quello è rosso no l'ho colpito che ma se chiami la granata tua non ti fa male quindi non ha senso che la chiama attento mi dietro dietro 2 ma dietro dietro milko 2 attacca ma attacca ma sbagliato sbagliato stanzito bella vai giocherino che il giocherino cai e la madonna e la madonna ma provate a tornare aiutatemi a fraciconi e morite su aiuto ne ho battuto uno basta che mi chiamo al telefono sono concentrato c'ho da fare ragazzi aiuto se aiuto 4 contro 1 anima cazzo vai anima questa no vai e tu anima attacca subito esce no da questa parte no se te lo facevi era proprio porco 2 se te lo facevi poi facevi una ricarica pepolla 3 a 3 ragazzi ma è togliuta ma un motosegato no grande grande grandissimo mi hai dato una mano chi c'è sta a vader culo dove stanno sta a stephani da stephani no calcola ste se non smettevi di sparare l'avevi ucciso ste devi parlare quando si sta a cuore aiutatemi non ha un sacco rialzato ah l'ho visto da me da me vai ste bravo con l'ansia vai vai è moruto vai così in culamo se è moruto vieni qua dietro c'è freddo dietro il ciamoncino e c'è stefanino dietro il camioncino alla stessa fa schifo ragazzi siamo se scaletio questo è fighissimo perchè io prendo lo sniper io prendo le granate quindi mi faccio tante headshot bici io non so dove andare sopra ci stanno due vie o le scale sotto le scale sopra decidi e dove è meno che l'avemmo incrociato in due ho preso solo io no no l'ho preso io no no l'ho preso io ma che stai non c'è ma guarda il video guarda ma guarda non c'è però ma proprio guarda guarda il video guarda guarda il video ma non c'è però ma proprio guarda c'è uno mi sta sperando l'assù fa un baby figlio di puttana ma state zitto che stanno fermi no ma tu non puoi capi come l'hai shottato è il modo in culo headshot che figo va 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 è shottato non vissami non vissami all'attacco stai parti giù stai no ragazzi facciamo l'attacco su te lo steppani che prende una cecchina da payments NOOOOOOOOOOOOHHH Nooooooo Ce n'e avevo 4 Oddio stepni Oddio stepni Da vicino da vicino steven Damoreèèèèèèèèèèè kinighi Quando io spari più vicino cherche in testa gli ho sparato Vai Anima a sinistra guarda Cicciani ma fanno uno show Vai così tutti via In testa gli ho sparato non è morto tra merda Quando l'abbatti Quando viene abbattuto devi andargli vicino per ucciderlo Ma anche se gli spara col fucile E' uguale si E' morto con la bocca Ma me Ho detto Ma gli è passato a tre Gli è passato attraverso Esatto no Spara senza mirami Senza mirami Fai il bling file Porco due Ci provo eh Guarda eh One Two One Two Three Ma gli è passato attraverso ma perché Ma porca troia Oh le ha battuto ste Vai ste Bravo Vai ste Bravo ste Bravo ste Da vicino Da vicino ste Uccidilo Occhio Vai avanti a te Oddio Sì 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 Cazzo ste Non ci credo No io non ci credo perché a me ammazzo sempre che i bombe e questo fa dei kit di merda E' quello che io non ci credo Oddio ragazzi stefano è un prodigio che ti chiesto Ragazzi che direi spero che questo gli sei piaciuto se ne volete altri arriviamo a 197 mila like Io ovviamente ringrazio ciccio anima e stepni Diciamo che è stata all'altezza di Vegas Dai la prossima puntata è il vostro genio